Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video dei giovi di 2008 Oggi ragazzi, video pazzesco, perché come dovete vedere, oggi faremo una live reaction allo stadio Per Sanitana e Inter, ragazzi, sono prontissimo, sono carico Ragazzi, questa sera, non dico i tre punti, ma voglio vedere una bella partita da parte di Sanitana Perché, come sapete, stiamo quasi in zona retrocessione, quindi almeno vorrei una bella risposta sul campo Niente ragazzi, quindi lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale se volete Che torni a live reaction, perché ragazzi, dovete sapere che io vado ciò presto allo stadio Quindi ci potrebbe essere una seconda possibilità, dovete dimmelo voi nei commenti Quindi iscrivetevi al canale e lasciate un bel mi piace Detto questo, ragazzi, direzione al stadio che sto perdendo il treno per andarci, quindi devo correre Ragazzi, ecco c'è lo stadio, carichi per la partita Puccio di mece, ma che ci posso fare se puzzo di mece Ma che ci posso fare se puzzo di mece La, 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 la. Dunque! Nuca! E ora, dunque a Tres'St laggiare alla voce! E rimà del momento della… Tale, Tithana! Coronavirus e-pregici, Beco, Constitutione! Buono, ric бизнесe, Vesteo, Nova, Calla y stationi! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti